Posizione invitante, potrebbe anche provare una conclusione diretta. Nakata! Goal! Goal meraviglioso! Occhio a prova in acrobazia! Che gol, signori, che gol! Ed è Nakata in saccare! Ide Nakata! Solge il sole d'Oriente! Perfetto! Il bisogno di sfiltare! Oh, come! Cosa? Come? Puede tutto il sole, quando si incontrazione il nostro canale? Come? Sommi!